Gusto, spettacoli e talent show. Il partecipato weekend al Lido di Fano ha reso onore al compleanno a cifra tonda di una delle eccellenze enogastronomiche marchigiane riconosciute a livello nazionale. Il brodetto di pesce incoronato dal brodetto fest che ha tagliato l'onorevole traguardo delle 20 edizioni. Da 20 anni proponiamo non un piatto, non una ricetta ma proponiamo la promozione di un'intera città, di un'intera regione oggi perché il brodetto è diventato, la ricetta è diventata il piatto identificativo di una città e non solo ma di una regione intera. Perciò uno dei tanti obiettivi che abbiamo raggiunto in questi 20 anni è proprio quello di aver proposto un piatto che oggi viene riconosciuto a livello internazionale come il piatto della regione Marche. Questo ci rende molto orgogliosi perché quando siamo partiti 20 anni fa l'abbiamo fatto con due tavoli, un ristoratore con una pentola di brodetto. Oggi abbiamo un evento che è tra i primi eventi della gastronomia italiana e questo ci rende assolutamente orgogliosi. È un bel festival, tanta gente, tanta gente che viene anche da fuori apposta per il brodetto, quindi che dire, quando la gente partecipa e c'è tanta presenza penso sia il riconoscimento più bello che si possa avere. In fondo anche la cucina esprime l'identità di un territorio e il fatto che ci siano tutti questi movimenti a cominciare dall'accademia dimostra l'importanza e il valore anche culturale che ha. Ed è anche un'occasione di valorizzazione del suo territorio perché qui non è solo Fano, oltre al brodetto valorizziamo altre eccellenze, a cominciare dall'olio, a cominciare dal vino, il bianchello. Una buona zuppa deve essere accompagnata da un buon bicchiere di vino, d'altronde, quindi tutto un insieme che rendono interessante, che danno valore a questa manifestazione. Lasciatemelo dire, mi sento anche orgoglioso di essere il sindaco della città di Fano che ospita il Brodetto Fest. Tanti gli ospiti presenti alla tre giorni, a cominciare dall'attore Gianmarco Tognazzi che ha fatto da cerimonieri dell'apertura raccontando la sua parallela professione da produttore di vino assolutamente abbinabile al brodetto. La mia passione è il vino ed è diventato il mio lavoro. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che trasformare il gioco di Ugo con cui per anni si è divertito con i suoi amici utilizzando per cucinare solo i prodotti che venivano dalla sua terra, quindi anticipando il biologico, il chilometro zero, parliamo degli anni 60 e già aveva questa intuizione. Io mi sono concentrato sul vino e la Tognazza che è questo posto dove noi siamo cresciuti e dove lui faceva queste cene, l'ho trasformata in un gioco per gli amici, in un lavoro ma anche un gioco per gli altri amici, cioè per il pubblico e quindi il vino che si faceva in casa è diventato ovviamente diverso ed è diventato il vino della Tognazza anche per il pubblico che l'ha tanto amato.